Dopo la seduta di insediamento tenuta a Milis il 18 maggio, lunedì a Cagliari si riunisce per la seconda sessione e la conferenza permanente del turismo. Al appuntamento parteciperà il Presidente della Regione Francesco Piglieru e l'Assessore del Turismo Barbara Argiolas. L'obiettivo dell'incontro, ospitato nell'ex Manifattura Tabacchi, è quello di concludere il percorso partecipativo che in questi mesi ha visto impegnato l'Assessorato al Turismo con gli operatori, i territori, i cittadini. Questo al fine di costruire il piano strategico di sviluppo e marketing destinazione Sardegna 2018-2021. All'ordine del giorno dei lavori, aperti a tutti, l'analisi del sistema turistico della Sardegna, il bilancio del ciclo di incontri tematici territoriali e la redazione di un documento con le proposte alla conferenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento e all'attuazione del piano strategico regionale. Istituita dall'articolo 4 della legge regionale numero 16 del 2017, la conferenza permanente è l'organo collegiale attraverso il quale i maggiori portatori di interesse in materia di turismo concorrono alla definizione delle politiche regionali. Questo al fine di migliorare la competitività e l'attrattività della destinazione Sardegna. Ne fanno parte tra gli altri gli assorati regionali al turismo, degli enti locali, dei trasporti, dell'agricoltura, della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione, ma anche l'Anci, il Consiglio delle Autonomie Locali, le Camere di Commercio, l'Unione delle Proloco, le associazioni di categorie interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità e le università.